Via Libera in Consiglio Comunale alla delibera che modifica lo statuto di ABC. Acqua Bene Comune diventa azienda speciale per la gestione del ciclo integrato delle acque della città di Napoli. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico e delle altre forze di opposizione di sinistra. Astenuti invece Nuovo Centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ci insediamo come amministrazione trasformando una società per azioni in azienda di diritto speciale, attuando quindi il referendum. Oggi completiamo quel ciclo approvando lo statuto e mettendo in sicurezza per sempre il ciclo idrico nella città di Napoli. Quindi per 30 anni siamo in grado non solo di garantire l'acqua pubblica, il sistema idrico, fognature, tutto ciò che attiene all'acqua. Lo facciamo a Napoli, quindi è una giornata che ha un rilevo nazionale e internazionale, con un messaggio molto forte, con l'obiettivo di portare questo modello nella città metropolitana e convincere in modo forte e autorevole la regione che la strada della privatizzazione, gli sgambetti politico-istituzionali che tentano di fare alla città di Napoli e ad ABC non passeranno. La delibera è stata accolta con entusiasmo dai comitati in difesa dell'acqua che hanno assistito alla seduta e fa di vieto all'ABC di realizzare i programmi che prevedano l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua. Le multinazionali vogliono mettere le mani sull'acqua perché, tra l'altro, questo è davvero l'oro blu, per cui è fondamentale in questo momento proprio insistere su questo. e ci auguriamo che le altre città in Italia incominciano a prendere l'esempio da Napoli. È l'unica grande città che ha avuto il coraggio di obbedire, dico io, perché è una legge nazionale, con il referendum è la democrazia diretta del popolo italiano, di obbedire a quello che il popolo italiano ha detto, che l'acqua deve uscire dal mercato e che non si può fare profitto sull'acqua. Il testo approvato prevede inoltre l'impiego di eventuali utili per la realizzazione di interventi su strutture e impianti e mette in sicurezza la gestione dell'acqua da eventuali privatizzazioni. Napoli ce l'ha fatta, vuol dire che l'acqua pubblica si può avere, la realizzazione dell'esito referendario, come diceva Padre Alex, è una vittoria realizzabile, è il popolo che lo ha chiesto, 28 milioni di persone circa. È stato un atto di coraggio anche da parte dell'amministrazione, c'è stato un impegno massimo. Chi mette le mani sull'acqua mette le mani su un grande interesse economico, finanziario e politico, quindi noi saremo attenti sempre e comunque a difendere questo diritto e questa bella vittoria. Ho fatto un appello alle forze che non sostengono in maggioranza, almeno formalmente, Caldoro, a sfilarsi, ad evitare che si possa scrivere una pagina vergognosa, che tra l'altro vuole colpire proprio la città di Napoli. Ci sono degli articoli e dei commi scritti apposta contro l'amministrazione comunale, e quindi il PD, che oggi ha sostenuto la nostra delibera, e questo è un fatto positivo, ci auguriamo che questo accada anche in Consiglio regionale, perché così viene smascherata definitivamente la politica di privatizzazione del Presidente Caldoro.